Ciao a tutti ragazzi sono Duc e benvenuti e ritrovati nel nuovo episodio della Mad Pack 3 Ragazzi vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15, alle 16, 17, boh non mi ricordo più, sarò in live, mi raccomando venite numerosi E che dirvi ragazzi, allora dobbiamo fare una quest che io non ho ben capito a che cacchio servi Perché però lei mi dice, vola per land da un'isola all'altra, una cosa del genere e uccidi i minatori Vabbè, raga, io ho provato a volare nel land, ora ci andiamo insieme, ci andiamo assieme, anzi ma prima voglio craftare una cosa abbastanza figa Vediamo un po' se riusciamo, voglio fare apple, andiamo un po', apple, che non dovrebbe costare molto spero Questa qua multicolore, che dovrebbe essere la più potente, sono tutte le mele messe assieme, per cui serve l'azzurra Porca boia, porca boia, non ce l'ho vissata, io la voglio fare però Allora, apple, iniziamo a prendere un po' di mele rosse, un po' di queste mele, e ok Allora, l'apple azzurra si fa con il diamante Abbiamo detto blocchi e diamanti, vediamo un po', allora, apple azzurra Che poi c'è questa e questa Bah, me ne servono, mi hanno detto Però ce ne sono due però, questa qua E questa qua Allora, diamo un apple, diamo un apple, ok, me ne servono due, una e una due Fatte Poi servono Allora, vediamo un po' Due verdi, che si fanno con gli smeraldi Guarda, gli smeraldi io non ce li ho però, eh Sme... Ah, non ho gli smeraldi Emerald Ah, ok Me le sono spaventate Me le sono spaventate, ui Allora, facciamo un blocco di smeraldi, bam Glielo insegniamo E li raccogliamo, bam Ok Mi sono cagato sotto per un secondo, per un secondo, raga Ok, poi ci saranno sicuramente quelli d'oro Giusto? Andiamo a vedere Quelli d'oro No, non sono d'oro Sono le Mike Apple Con il colorante rosso Dandelion Yellow Ok, con il colorante rosso Per cui, eh... Giallo, che è di rosso? Yellow Yellow Ok Bam Una Ah, è una due Ok Poi abbiamo bisogno di quelle rosse che con la redstone Ma è semplice, dai, redstone Bam Sono un pirla, ragazzi Sono ovviamente un pirla Perché a questo punto Io le facevo imparare Una per una Ah beh, che pirla Ancora non le ho finite Sì, sono mezzo di inquadronito oggi Scusatemi Ok E manca l'ultima Che è quella bianca semplice Che l'abbiamo Ok Allora Andiamo qua Via questo Via questo Facciamo imparare Voila Facciamo imparare Voila Facciamo imparare Voila Facciamo imparare Voila E questa già l'abbiamo Poi andiamo qui Facciamo la multicolor Bam Che vale 395.000, raga Bam Io ne prenderei Tre Quanto ne vengono? Uno stack Sono troppe, secondo me Bam Ok Queste le possiamo buttare Non servono più Queste non servono più Abbiamo ancora 14 milioni Ragazzi Bam Abbiamo le super mele Cioè Io non so se mi sono stato spiegato chiaro Ma abbiamo le super mele Bene Ora andiamo nel land Vi faccio vedere Cosa ho trovato ragazzi Ti Vi faccio vedere Cosa le true Allora 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 È abbastanza difficile Otto entrarci Perché Vi faccio anche vedere Qualcuno si è incazzato Ti Ah Guardate raga Là Ma è un macello Entrarci Io mangiarei una mela Per vedere giusto gli effetti Otto minuti di tutto Voilà È un mezzo Mi ricordate la ciambella Raga Mettaciambella Guardate qua Quanti nocchillati Guardate quanti nocchillati Raga Ok Accogliamo tutto Sono incazzati e potenziati eh Sono incazzati e potenziati Ma non è qua È su Eccolo 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 È su Io però voglio entrarci Eh vabbè Ciao Vi faccio vedere una cosa raga Mi spaventate adesso Guardate qua Cioè voi ditemi io che cazzo Come come entro Perché lì ci sono delle scale Vedete Ci sono delle scale lì Delle scale Eccole lì le scalette E se entrassi da sotto Perché ho paura ragazzi In questo castello Posso trovare i miner Quelli che vogliono uccidere Sì vabbè Ciao raga Ciao Proprio ciao Perché fanno male Ste merde Dovrei entrare da sotto Mi sono portato un piccone Sì Buonasera Eh Maia Ok Dai Veloce Eh vabbè Non si può Non si può Non si può Non si può Non si riesce Non si riesce Perché qua Eh vabbè Dai Basta Bello che sono tutti incazzati Non è che mi dici Cadono E non mi cagano Potrei provare con la zucca Wow Non ci ho pensato prima Perché non ci ho pensato prima Stupido 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 Non ci ho pensato prima Non ci ho pensato prima Possiamo Il problema è che Quelli là sono già incazzati Laga Adesso vediamo un po' Allora Pumpking 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 Ci mettiamo una bella zucca Il problema è che quelli Sono già incazzati Non è che dici Si incazzano dopo Sono già incazzati E credo che la zucca Non serva Andiamo a vedere Va Andiamo a vedere T Che cacchio è successo M Si Oh Oh Non so Dove sono finito Che cacchio è successo Adesso qua Scusatemi Si Sono morto Sono morto Ma vi rendete conto Adesso i bug di merda Vi rendete conto I bug di merda Ma porca boia Ma porca boia Poi non mi devo arrabbiare Ok Proviamo a mettere la zucca Ok Mangiamo una mela Ok E andiamo La Che era da questa parte Era da qua Ok La Si Voilà Andiamo a vedere Se sono ancora incazzati Speriamo di no Perché non volo Grazie a Kaiser Oh Perché non volo C'è con la zucca Era un volo No Non volo più Ma che cacchio è successo adesso Dai raga Ma che cacchio è Sti bug Non volo più Ma che succede No non ci sto credendo Cioè torno indietro Adesso volo Sarà buggato Ma non ci sto credendo Ma che è il diamine Adesso li muoio Guardate eh Guardate Attentamente T Mamma mia Ok qua volo Andiamo di là Oh Rivolo Allora togliamo questo Mettiamo questo E possiamo andare Oh che bella cosa Ogni volta che entro qua dentro Boom Mi si azzerà tutta la mela Ma è bellissimo Ma non sono buggate queste cose Ma va Ma chi lo dice Chi lo dice Ok Proviamo ad andare Ok Andiamo Vediamo se sono incazzati Ma sembra di no Sembra di no Vedo pochissimo E voi ancora meno di me Lo so Perdonatemi Chiedovenia Ma Sembra non siano incazzati Io devo entrare qua dentro Oh mio dio Ecco perché Stanno cadendo Eh no 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 Si incazzano lo stesso Raga Si incazzano lo stesso Anche con la zucca Che cagata Che cagata Però abbiamo un bucato eh Siamo entrati ragazzi Potremmo entrare e chiuderci dentro E muori E muori E muori E muori Eeeh Così arrabbiati siete Ma che avete fatto Dai rompiti rompiti Dai Dai mi mancava un pezzettino Rompiscatole Io ho capito perché sono incazzati così Non capisco Non capisco perché sono così incazzati Ma se facessi così Tipo no Tipo E via E cadi giù Tipo così Va bene Questi sono mongoli eh Quello è il bello Se io facessi così Eh quanti sono Eh vabbè Si si Certo Certo Eeeh Tutti i giorni Me lo dicono Tutti i giorni Dai 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 Ok Ok Se io facessi una cosa del genere Non possono più entrare Giusto? Giusto Dovrei essere a cavallo Ok Uè 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 Chi è stato? Aia 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 Ma da dove oh? Da qua? Oh porca boia Oh porca boia Oh porca boia Oh porca boia Perché si un po' faccio alto così Loro sono altri tre Ragazzi vi chiedo scusa per i rumori eh Chiedo scusa per i rumori Aia Ma di là era aperto Ma di là era aperto raga Tutto sto casino E qua c'era l'entrata Ah no sono pirla eh Ah no sono pirla eh Dai raga È impossibile entrarci qua dentro È impossibile entrarci Eppure son curioso Eppure son curioso Se dovessi mettere la zucca no? No no sono incazzati lo stesso Bene ragazzi io non so Che cosa fare Se qualcuno di voi conosce la quest Questa qua Ve la faccio rivedere Questa qui Eccola qua Fatemelo sapere ragazzi Perché Uh Guarda che merda Si è teletipizzato Si è teletipizzato Io non so assolutamente Cosa fare ragazzi Per cui aspetto i vostri commenti Prima di andare avanti Con la serie Un bacione e un abbraccio E Dai Luke è tutto Questa che acqua è? E' un veneno Solo Andiamo a casa Andiamo a casa Subito Il portale è qua E vi do un abbraccio Come dice Gianni Morandi Vi do un bacione Come dice Luke Vi do tutto quello che volete Basta che mi dite come si fa Un bacione e un abbraccio Ciao Ciao